inspiro allungo le braccia parto dalle braccia chiudo il mento al petto piede a martello quadricipiti e fuori l'aria raggiungo la punta del piede raddrizzo bene piano prima le vertebre inspiro srotolo vertebra per vertebra accompagniamo lentamente mantenendo i quadricipiti attivi inspiro allungo le braccia piede a martello chiudo il mento al petto e fuori l'aria l'elastico posizionato sul palmo della mano ci permette di non utilizzare le spalle ma di mantenere il respiro e la mano collegata al petto srotolo vertebra per vertebra allunga bene le braccia dietro fai un bel respiro porto il piede a martello sento subito l'attivazione dei quadricipiti del muscolo trasverso fuori l'aria raggiungo la punta dei piedi ripetete da 8 a 10 volte